Un momento di preghiera comunitaria in piazza tra la gente in vista di un traguardo davvero importante. La comunità della Forania di Pagani del rinnovamento nello spirito ha promosso nella serata di ieri un incontro di forte impatto nello spazio antistante all'auditorium Sant'Alfonso in preparazione all'evento di domenica 17 settembre quando il gruppo celebrerà 40 anni di cammino alle 15.30 presso la parrocchia Corpo di Cristo di Pagani. Questa è la conclusione di un momento di percorso itinerante come Chiesa Cattolica in cammino fuori le mura, non dentro le mura. Fuori le mura perché molte volte si è chiusi troppo dentro. Papa Francesco ci sta invitando ad uscire fuori come battezzati, come cristiani ma soprattutto come innamorati di Gesù. Ci sarà un grande momento per noi del rinnovamento nello spirito di Pagani e in particolare della comunità rinascita del Corpo di Cristo perché 1977-2017 per alcuno di noi ricorrono 40 anni di cammino e di servizio alla Chiesa e al Signore. Domenica pomeriggio noi iniziamo alle 15.30 nella parrocchia del Corpo di Cristo di Pagani a festeggiare i nostri 40 anni di cammino nello Spirito Santo. 40 anni che vedrà la presenza di relatori nazionali e regionali con la conclusione della celebrazione goristica ma soprattutto l'invito va a quanti sono portatori di bisogno e sono nella sofferenza a casa. Cerchiamo di lodare e benedire il Signore insieme per farlo conoscere poi anche agli altri più da vicino, fare un'esperienza personale e comunitaria. Anche danze, danze, opera per i bisognosi, che la nostra comunità è a 360 gradi. Anche Pagani